L'abbandono è sinonimo di solitudine, assenza di compagnia, assenza di cura. La città diventa specchio di un'anima abbandonata solo quando è notta, l'ora più buia accompagna l'unice più forte del principio e della fine di ogni cosa. Ed è proprio quando smettiamo di vedere le cose attorno a noi, di dare loro la giusta importanza, la giusta cura, che ci costruiamo il ponte verso il nostro stesso abbandono. Un ricordo è una struttura complessa immagazzinata nella corteccia cerebrale, un impalcatore inossidabile da terra, indistruttibile. Il motivo di tanta forza e longevità è che sia una cura maniacale per ogni ricordo che valga la pena di essere conservata. L'abbandono è una struttura immagazzinata. L'abbandono è una struttura immagazzinata. L'abbandono è una struttura immagazzinata. Di fronte a uno dei migliori esempi di architettura civile ottocentesca. Un palazzo signorieri, espressamente residenziale, ubicato in posizione privilegiata nella zona più elevata lungo il margine occidentale della città. In un unico armonico insieme sono concentrate numerosissime ed audaci risoluzioni strutturali, spesso accompagnate da originali di innovative tecniche costruttive specifiche. Colonne imponenti, scalinate che si reggono con una grazia suave. Intresci particolari nella decorazione del ponimento, affresche a riempire gli alti soffitti. Finestre imponenti a diminuire lo splendore di una superficie di oltre 5.000 metri quadrati. Già, già, proprio qui. Se solo riuscissimo a conservare le cose che ci stanno intorno, come il più bello dei ricordi, dopo averne certe, riconosciute l'importanza e il valore, ogni cosa di questo mondo risplenderebbe come la prima bagnante luce dell'alba. E niente, e nessuno, dovrebbe potenere di essere solo.